Se qualcuno facesse una scoperta capace di cambiare il mondo, il mondo si lascerebbe cambiare? Ci sono persone che sviluppano teorie che vengono considerate bizzarre e deliranti dalla scienza ufficiale. Una di queste persone è Pierluigi Ghina. Eppure, quando le sue macchine entravano in funzione, accadeva qualcosa di inspiegabile. Ma chi era Pierluigi Ghina? Io sono nato nel 1908 e ho 80 anni, ma siccome levo lo zero sono 8 anni. Io ho cominciato da bambino già a avere queste sensazioni di studi magnetici. Allora ho cominciato a studiare e sono entrato dentro negli studi della materia. Qui c'erano le macchine, qui c'era lo stroboscopio, c'era il recintato, c'era lo stroboscopio che era questo tubo molto grande, di colore azzurro, che è stata la prima costruzione che lui ha fatto. Questo stroboscopio è stato sostituito con questa palla che lui faceva girare in forma di elica, per cui era quella che sostanzialmente avvicinava e allontanava le nuvole, insomma, quello che io sentivo che raccontava. L'esperimento delle nubi, lo ricordo benissimo, l'ho organizzato io. Non è una cosa eccezionale, abbiamo in pratica messo in moto l'elica e mandato energia positiva perché volevamo aprire le nuvole. Pierluigi Ghina nasce a Milano il 23 giugno 1908. All'età di 17 anni si arruola volontario nella Marina Militare come radiotelegrafista specializzato. È in questo periodo che Pierluigi Ghina inizia la sua attività di ricercatore controcorrente, occupandosi di elettromagnetismo fino ad annunciare, negli anni venti, la scoperta dell'atomo magnetico, da lui definito il collante della materia. Nel 1936 il conte Giulio Gamberini, ricco possidente terriero, sposatosi con la sorella di Pierluigi Ghina, lo invita a trasferirsi ad Imola per coinvolgerlo nella gestione della proprietà. Ghina accetta e nella proprietà del conte Gamberini trova spazio utile per continuare le sue ricerche. È ad Imola che compie i primi esperimenti sull'atomo magnetico, riuscendo a isolare il monopolo magnetico positivo e negativo e sviluppando la teoria del ritmo Sole-Terra. Spiega Ghina nel suo testo il monopolo magnetico. L'energia solare è il monopolo positivo dell'atomo magnetico che arriva alla Terra a spirale. Dalla Terra riparte un'altra spirale verso il Sole con segno negativo e così il ciclo si chiude. Il riflesso di questa energia, abbinato alla pulsazione che lo caratterizza, crea la vita ed ogni cosa animata o inanimata è segnata da un proprio ritmo. Nella sua casa all'interno del circuito imolese, Ghina costruisce lo stroboscopio ritmico-magnetico solare, uno strumento che, sostiene, possa avvicinare o allontanare le nuvole. Il ricercatore dichiara di essere in grado di far piovere. Inizia così la sua storica sfida con l'autodromo di Imola. Ghina, come tutti i proprietari all'interno dell'autodromo, era un feroce nemico nostro, perché all'epoca organizzavamo praticamente solo noi, e quindi nulla tralasciava perché le nostre manifestazioni fossero, uso la parola, fra virgolette, maledette dal maltempo. E allora, con molto fair play, avvicinammo Ghina per intavolare con lui degli, fra virgolette, sotterrani accordi affinché lui non portasse più avanti queste procedure di pioggia, di intemperie e sulle nostre manifestazioni. Ho cominciato a seguire le gare che avevo nove anni qui all'autodromo. Cominciai a sentire parlare di un certo Pierluigi Ghina, un personaggio che veniva dato come colui che con i suoi esperimenti magnetici riusciva a far piovere per osteggiare e contrastare quello che era il fenomeno corse. Quando vedevo che pioveva la vedevo come una cosa che sarebbe servita, esempio quel giorno quando mi disse ma io faccio piovere domenica su varie zone dell'autodromo, subito nella mia testa mi disse ma questo è un genio, la domenica è successo quello. Nel 90 tutto pronto per il via, mancano 5 minuti, arriva di nuovo una nuvola e piove, incredibilmente piove solo sul circuito, al di là del fiume dove comincia la città c'era il sole, piove solo nel circuito, tant'è che pronti per il giro di ricognizione all'emprost che era uno dei più attesi della giornata si dipista nel giro di ricognizione e si ritirò, quindi c'era compromessa per la Ferrari? Devo dire che inizialmente questo accordo con Ighina non ebbe successo, infatti agli inizi degli anni 60 dovemmo annullare una conchiglia d'oro shell che veniva aspettata da migliaia e migliaia di spettatori, però il sabato un ubifragio incredibile, tutta Imola fu allagata, figuriamoci l'autodromo e ci vedemmo costretti ad annullare anche questa manifestazione e ti parlo del 1972. Potresti controllare negli anni quanto è piovuta Imola quel giorno lì, la coincidenza io non penso che possa essere casuale o lo sarà. Pioveva quando diceva di far piovere, quindi così sarà stato vero, non lo so. Nei suoi occhi, anzi meglio mi correggo, nella luce dei suoi occhi c'era qualcosa di tenebroso, vorrei dire di misterioso che ti faceva rimanere un attimino interdetto, un attimino perplesso su questo personaggio e la perplessità è il dubbio, e il dubbio le persone intelligenti lo fugano. Questa casa era di vita sotto al laboratorio, sopra e abitavo io, per cui lui aveva grandi spazi, insomma, per lavorare. La vita insieme era impossibile perché lui era un solitario, lui non ha mai avuto tante persone vicine, lui era un solitario, lui stava passato tutta la notte, andava a letto alle tre e le quattro del mattino perché nella notte lui faceva le sue cose. Quando erano le dieci e mezzo, undici, che noi andavamo tutti a letto, lui scendeva e andava nel suo laboratorio perché lui nella notte, nel silenzio della notte, io riusciva probabilmente a realizzare meglio le sue cose. Io per entrare in laboratorio dovevo quasi chiedere il permesso, quindi non è che potesse entrare più di tanto. E lui tutte le volte che entrava in laboratorio mi seguivo con lo sguardo che non facessi qualcosa che non andava bene, per cui io tentavo sempre meno, ovviamente. Io sono stato a trovarlo, diciamo, nell'ultima fase della sua vita, aveva già 86-87 anni quando andai a intervistarlo la prima volta. E aveva, questo era il finile, aveva queste macchine grandi, fili dappertutto, un laboratorio bello perché era appunto pieno di queste macchine colorate. E in giardino, per noi bambini molesi, era un posto da andare a vedere, con le biciclette passavamo molto vicino all'autodromo, anzi all'interno dell'anello dell'autodromo c'era la sua casa, con queste macchine grandi e fantastiche. Per esempio questa, che si vede in questa foto in bianco e nero, era la macchina della pioggia. La macchina della pioggia era una pala d'elicottero che Ighina, dall'interno del suo finile laboratorio, faceva ruotare o in un senso o nell'altro, sostenendo che questo avrebbe cambiato il tempo perché poteva spostare le nuvole. Ma abbiamo fatto esperimenti a non finire con Ighina. Dieci anni se ne fa di cose. È il 1937, quando Pierluigi Ighina fonda ad Imola il Centro Internazionale di Studi Magnetici. Nella sua casa laboratorio si realizzano esperimenti e si costruiscono macchinari di grandi dimensioni. All'esterno, nel prato che la circonda, vengono sepolti una serie di tubi pieni di polvere d'alluminio, a forma di spirale, che scendono in profondità. Interessati alle sue teorie, alcune persone lo avvicinano, offrendosi di aiutarlo. Da quel momento Pierluigi Ighina non sarà più solo a sviluppare la sua ricerca, ma potrà contare su alcuni fidati collaboratori. Uno dei primi esperimenti che decidono di fare è quello di bombardare la Luna con un tubo magnetico alto 7 metri per osservare quale effetto ne derivava. All'inizio, quando si è arrivato dei Ighina, sembrava che dal giorno all'altro dovessi scoppiare il mondo su queste cose. La mia vita, cioè entrato nella mia vita questo mondo che Ighina mi ha presentato, poi io sono stato messo un po' da parte, dopo tre anni. A questo punto io mi sono trovato proprio uno che non sapeva più da che parte fosse, perché io avevo la vita di tutti i giorni che poi contrastavo con l'apertura che mi aveva creata nella mia persona Ighina. Quindi poi ho imparato, come ho anche detto, a guardarmi dentro, a conoscermi, a capire quello che Ighina stava facendo su di me. Insomma, mi stava preparando a quello che secondo lui fin dall'inizio era un mio compito e io ero il più settico di tutto sul compito che dovevo svolgere a sinistra. Avrei dovuto fin dall'inizio fare degli apparecchi di fronte ai quali nessuno poteva dire che non erano vere le cose di Gigi. Aveva delle capacità che era fuori dall'ordine. Quelle antenne là solo ho messo io da solo. Facevo parte del progetto, su questo non ho dubbio oggi, neanche allora, però io sono arrivato all'elica. Dopo l'elica non ho più partecipato, non ho più compenetrato il significato profondo di queste costruzioni, però il canone, il tubo e l'elica facevano parte della mia vita, insomma, delle mie conoscenze. È tutto basato sull'energia solare, tutto su quello. Si può far piovere e finire nel tempo quando si vuole, però si vuole l'apparecatura. Senza apparecatura non puoi fare niente. Erano tubi tubulari pieni di polvere d'alluminio, collegati con della piattina d'alluminio, della lamiera d'alluminio, con una partenza più stretta si allargava, era molto alto, 5 metri, qualcosa del genere, su un perno girevole per direzionarlo, poi girevole anche in questo altro senso, si posizionava attraverso due maniglie. Dentro c'erano delle pulsazioni luminose, le solite pulsazioni di lampadina da due eventi che a pulsazione resistevano alla scarica, insomma, e allora c'era questa proiezione. Si vedeva nello spazio questa luce che usciva dal tubo, questa polvere d'alluminio collegata col monopolo che portava questa energia, che poi dentro il tubo con tutta quella polvere, sono quintali di polvere, diventava una massa di energia enorme. Io ho visto che lui bombardava la luna e c'erano dei risultati, il risultato più forte, quello del buco nelle nuvole. Le nuvole si avvicinavano, si allontanavano, questo l'ho visto, però se tiravi il vento poteva succedere la stessa cosa, per cui non è stato mai determinante, ma il buco nelle nuvole e guardare il sole attraverso il tubo, per me erano determinanti, altro non ho cercato. È il 12 settembre del 1972, quando Pierluigi Higina, aiutato dai suoi fidati collaboratori, annuncia addirittura l'incontro con un extraterrestre, il principe Scegustori. Le cronache giornalistiche locali riportano di curiosi e appassionati a corsi a migliaia sul monte Castellaccio di Imola, per incontrare l'alieno che avrebbe dovuto essere risucchiato mediante apparecchiature elettriche, predisposte dallo stesso Higina. Se devo dire in quel momento cosa ho provato, non ti racconto proprio niente, nel senso che non lo so. So che abbiamo organizzato con questo Deppiant Segustori, eccetera, che sarebbe intervenuto, eccetera, eccetera. I miei parenti sono venuti, quindi qualche cosa avrò creduto anch'io. Ma parlano di un migliaio, da tutte le parti, dalla Francia, dalla Germania, mi ricordo, ce n'erano di tutti i tipi. La delusione perché non erano arrivati gli esti terrestri, non l'ho provata minimamente. Qual è successo? Non so cosa è successo. Ci sono delle cose intime che poi si esprime nel tempo. Qualche d'uno è venuto quella sera, secondo me. Qualche d'uno nel mio cuore è entrato quella sera. Punto e basta. Il generatore dell'atomo magnetico vuol dire che io posso dividere l'energia positiva o negativa dell'atomo magnetico. E a seconda di quello che faccio, andare su, aprire o chiudere le nuove. Io posso prendere un bel tempo, un brutto tempo con questa parete. Una classe di 6 o 7 anni, bambini, sono quindi elementari, sono venuto qua dentro e ci ho detto, vedete bambini, là ci sono le nuvole e non c'è il sole. Adesso io faccio girare l'elica, dopo vi farò vedere, tirare l'elica. Vedete che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, si apre le nuove e viene a fare il sole. E dopo 20 minuti è venuto a fare il sole. Il bambino ha fatto bene, bravo, è stata la più grande soddisfazione della mia vita. Perché tutti quanti c'erano, la combinazione, c'è il vento, c'è il qui, là, non è vero. Allora, i modi di sperimenti ne ho fatti una quantità enorme. Ho sempre cercato di non far credere alla verità, se no non mi lasciavano fare nulla. Quindi io faccio qualche imparare, mi piace. Adesso qui io vi spiego il ritmo. Se voi vedete, noi abbiamo un tubo di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che capta l'energia solare. Qui in basso c'è altro tubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrale. Se voi prendete una spirale, la rovesciata e il movimento nel contrario. Ora, se queste due energie riportiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo, li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Meteorologia dinamica è quella che deve portarci alle previsioni. Oltre a questa meteorologia, diciamo, che risponde alla domanda più ovvia, insomma, che tempo farà, c'è la cosiddetta meteorologia fisica, o microfisica viene chiamata anche, che vuole capire che cosa succede realmente dentro le nubi, per esempio. Cioè, come si forma una nube, come nascono le precipitazioni, perché la pioggia ha certe caratteristiche, come nasce appunto la grandine, che è stato il mio lavoro, diciamo, di una vita, è una costante, ho fatto diverse cose, diciamo, nella fisica dell'atmosfera, ma lo studio della formazione della grandine è stato per me sempre una costante, un pensiero scientifico dominante, insomma. In sintesi, diciamo, si è potuto considerare il chicco di grandine sostanzialmente come una sonda naturale, cioè sapere da queste strutture, diciamo, qual'era la condizione all'interno della nube. I razzi esplodenti sono stati fino agli anni, diciamo, dagli anni, dai primi, nel dopoguerra. Cominciò un carro prendere dalla Francia, dei razzi, con il del tritolo dentro, del TNT, e esplodevano a un'altezza di un chilometro, un chilometro e mezzo, proprio il botto puro. La versione moderna, diciamo, del suonare le campane del 600, insomma. In realtà, le prove poi fatte con dei chicchi vicini a delle esplosioni, le ala aperte, cioè non hanno dato questo tipo di conferma. E allora l'Italia era anche un terreno di prova, di tentativi, che non avevano una base scientifica, ma venivano fatte. Secondo me, insomma, siamo un po' nell'ordine della fanta meteorologia, insomma. Conosco particolarmente questo caso, questa persona, certamente, se agisce, diciamo, sul fenomeno, in modo da modificarlo, deve spiegarlo. Diciamo, è difficile che ci siano delle cose che sfuggano, diciamo che ci sia una, se c'è, si va alle conferenze internazionali, si dimostra, insomma. Ma ci sono delle cose, per esempio, che, insomma, non è che non avvengono novità, appunto. in realtà sono di questo tipo, soprattutto combinando le teorie con delle osservazioni sempre più raffinate, ecco. Il momento fondamentale è stato quando lui ha messo nel giardino tutta quella roba che, insomma, nessuno, nessuno poteva passare di lì senza guardare. Sembrava veramente il Luna Park, perché all'inizio c'era questo tubo, questo stroboscopio di un colore azzurro che, insomma, era proprio così, non potevi non vederlo. Dopo queste palle che giravano, quando c'erano le nuvole, insomma, si faceva notare. Il fatto che lui non fosse creduto, secondo me, gli dava la forza per tirare avanti. Io sono convinta che gli altri credessero meno a lui non importasse molto. Lui andava avanti per la sua strada, lui credeva di dover mettere a conoscenza le persone delle sue scoperte e che avrebbe fatto bene a tutti quanti quello che lui aveva nelle mani. Sogno in realtà non lo so, questo non lo so. Qui abbiamo una macchina rotattiva che produce il movimento rotattore di energia solare, la quale dà la possibilità di fare vedere gli oggetti in movimento per riflessione. se voi vedete, questo oggetto qua sopra che è fermo, si vede l'immagine nel movimento. Questo è la cosiddetta presa in giro che il sole fa a tutti gli scienziati del mondo. Quando gli scienziati cominceranno a capire questo, cominceranno a conoscere che cos'è il ritmo solare terrestre. Io ho avuto un rapporto molto conflittuale con lui. Lui diceva sempre che le cose erano semplicissime e che era impossibile che non le capissimo. Ma non ci dava gli strumenti per capirlo, almeno gli strumenti che noi conoscevamo chiaramente. E poi erano tutte cose strane, per esempio questa lampadina, mi ricordo vicino al pollaio, una lampadina sempre accesa, perché lui aveva fatto praticamente un collegamento con le radici e i rami e aveva acceso questa lampadina. Per me era normale che una lampadina si accendesse in un albero, però non mi sono mai posto il problema perché si accendeva una lampadina in un albero. Io sentivo raccontare delle cose così strane, così diverse da quelle che mi insegnavano a scuola, che all'inizio io l'ho catalogato come una persona strana così, una persona da non ascoltare, eccetera. Poi man mano che crescevo vedevo che le persone avevano sempre più interesse nei suoi confronti e mi stavano nascendo dei dubbi e che lui a questo punto magari dicesse anche qualcosa che potesse anche essere vero, insomma. Questi sono tutti tubi quindi polveri d'alluminio, tubi quindi polveri d'alluminio che si muovono, che girano, le quali hanno la proprietà di emettere energia o captare energia a seconda delle polarità che noi diamo. Qui si formano i rime, vedi? Bassi in alto, i rime continuano a mezzo. Questo qui è l'apparecchio che serve per allontanare e avvicinare le nuvole, per fare bene e brutto tempo. Lui non ha mai cercato una soluzione analitica, ha sempre avuto un approccio filosofico, intimistico nei confronti di queste ricerche e diceva spesso che non serviva la trattazione analitica. Ma noi sappiamo oggi che per poter essere comunque ascoltati in un certo qual modo dalle istituzioni, dal mondo stesso, chiamiamolo così, dobbiamo presentare una ricerca sotto forma di modello matematico. Questo secondo me non c'era già più quando sono passato, ma delle intuizioni ce l'ha. L'idea comunque del monopolo magnetico in teoria esiste, cioè che sia possibile separare il polo fisicamente, in teoria, il polo positivo dal polo negativo, ma in realtà è una teoria come la fissione, insomma, alla fine non riesce a farla. Che cos'è un monopolo magnetico? Probabilmente lui lo chiamava il collante della materia. Lui lo chiamava il collante della materia. Lui diceva che il monopolo magnetico era ciò che teneva legato alla materia. Il monopolo magnetico lui diceva che appunto serviva per generare e per distruggere tutta la materia. In funzione di quale polarità veniva data alla materia, lui poteva trasformare la materia in energia e viceversa. Nessuno ha mai visto realmente funzionare le macchine di Ghina o creare qualcosa di particolare, perché sugli esperimenti che lui sosteneva fossero riusciti, alla domanda vogliamo vederli, la risposta era quasi sempre accompagnata da un sorriso, le macchine le ho smontate, perché mi servivano i pezzi per costruire ne altre. Per cui era sempre difficile capire dove e come volesse arrivare. Io ritengo di sì. Molto semplicemente ritengo proprio di sì. Sì, perché c'era una logica nelle sue cose. Lui non è che diceva attacco due fili, tre cose, un po' di polvere di alluminio, due tubi e piove. No. C'era una metodologia, una logica nei suoi esperimenti. Riempire dei serbatoi di energia, scaricarla, la rotazione, il mescolare l'energia che lui generava con quella che secondo lui veniva comunque sempre riflessa dalla terra verso il cielo piuttosto che dal cielo verso la terra, dal sole verso la terra. Lui mescolava la sua energia con quella che naturalmente secondo lui già esisteva, potenziandola, potenziando a volte quella che ne usciva dalla terra, a volte quella che scendeva. E quindi diceva che le nuvole erano capaci di immagazzinare questa energia. Se venivano squilibrate o da un lato o dall'altro, si poteva avere o la repulsione o la trazione. E quindi la condensazione. Quindi c'era una logica molto interessante sotto, estremamente interessante. Una logica che andrebbe, ripeto, presa in considerazione e quantomeno approfondita. Sul clima credo di no. Credo che magari un giorno fra 50-100 anni qualcuno dimostrerà che, per esempio, alcune idee di fisica teorica avessero delle basi, ma non in quello che Ghina faceva, ma in quello che Ghina sognava. E qui è la grande differenza. Fin dal 1895, io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Io ho lavorato dieci anni con Guglielmo Marconi. E quindi dall'esperienza di Guglielmo Marconi io sono riuscito a sviluppare quello che lui voleva fare. Guglielmo Marconi aveva un chiodo in testa perché la lucciola, la lucciola, fa la luce chiara e fredda. Come fa, come faceva a fare questa luce? Allora che cosa è successo? Che lui ha studiato la lumaca. La lumaca è il nutrimento della lucciola. La lucciola si alimenta solo, esclusivamente, della lumaca. Allora, Guglielmo Marconi cosa ha detto? Se la lucciola si alimenta della lumaca, la lumaca deve avere un segreto per produrre la lucciola. Ecco, la lumaca, quando cammina in questo modo, cioè con la sua casetta in alto, tramite la spirale, riceve l'energia solare. Quando invece in questa posizione, cioè è con l'abitacolo suo in verticale, è ferma, non si muove, però percepisce l'energia solare e l'energia terrestre. Quando invece cammina in questo modo, cioè che il suo abitacolo è verso in basso, riceve solo, esclusivamente, l'energia terrestre. Tutto questo è causato dalle spirali. La spirale ha dato indicazione a Guglielmo Marconi che l'energia solare scende a spirali, con l'indicazione distrosa, entra nella terra, riesce nuovamente nella terra a senso contrario. Ighina ha sempre sostenuto che il premio Nobel Guglielmo Marconi, poco prima di morire, lo avesse incaricato di proseguire gli studi sul magnetismo. In qualità di suo collaboratore in incognito, Ighina dichiarava di essere l'unico depositario di una leggendaria arma segreta, il raggio della morte. Quell'estate, avvilito da un crescente pessimismo e sempre meno in contatto con la realtà, Mussolini parla con il rincrescimento di un'arma segreta italiana, il raggio della morte, sperimentata da Guglielmo Marconi negli anni 30. Secondo indiscrezioni giornalistiche, tra il 1935 e il 1937, Marconi era riuscito a costruire un'arma capace di bloccare a distanza e distruggere qualsiasi mezzo motorizzato. Rachele Mussolini racconta in una sua autobiografia che nell'estate del 1936, mentre si recava in macchina con suo autista Ostia, la sua auto e tutte le altre nel raggio di 200 metri si fermarono senza alcun motivo. Le auto rimasero immobili per circa mezz'ora, mentre alcuni autisti, perplessi, si aggiravano per controllare motori e candele. Come per magia, alle 15.35 tutti i motori ripresero a funzionare. Rachele la sera stessa venne a sapere dal marito di essersi trovata nel mezzo di un esperimento segretissimo, frutto di un'invenzione di Marconi. Ma intanto diciamo che Pierluigi Ghina è stato certamente un personaggio, lui e i suoi allievi interessato a Marconi, interessato a questi luoghi. Quindi noi abbiamo tracce del passaggio di Ghina da queste parti. Ricordo che il mio predecessore, come presidente della fondazione Marconi, lo incontrò una volta, non so che cosa si siano detti, comunque certamente i Ghina e i suoi erano interessati a Marconi, a questi luoghi ai quali poi attribuivano delle proprietà particolari secondo il loro modello. Quindi il flusso in questa direzione, Ghina verso Marconi, Ponteco Marconi è storico, esiste. Mentre invece, per quello che noi abbiamo potuto stabilire, non c'è nessuna traccia di tipo storico che ci faccia pensare che Marconi conosceva Ghina, che abbia avuto in qualche modo la possibilità di passargli progetti piuttosto che avere colloqui e così via. Io ho incontrato Ghina presso lo studio dell'ingegnere Baldini, che negli anni 70 era il segretario generale della fondazione Marconi e io ero la segretaria della fondazione. Una volta venne con un dipanatore della lana, proprio quelli che le nostre nonne usavano per avvolgere le matasse di lana e c'erano attaccati dei gusci di lumacche e simili. Io lo conservai in archivio, poi naturalmente si è perso, ecco. Lo conservai in archivio ed era legato, mi dissero, era legato a delle ricerche che aveva fatto in Ghina sulla spirale magnetica. Non possiamo sapere le cose se prima non le vediamo, quindi non si può dedurre una cosa senza la conoscerla. E prima conoscere poi dedurre. Il peppo allo spazio per me non esiste, perché il peppo allo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. Quindi il tempo allo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione. Quindi, per esempio, i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. Il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia, la dopo non si è distrutta per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia producono una terza materia che è il comprensamento dei formati supernormali. Io personalmente ritengo di essere, di appartenere al razionalismo. Però qual è il posto dove un razionalista si deve mettere? Nel centro dell'irrazionale, perché lì ci sono le cose da scoprire. Per cui il motto dello scienziato e del razionalista deve essere maledetto, vi spiegherò. Alla base della ricerca c'è una molteplicità di fattori. Innanzitutto partiamo da quello umano. Alla base della ricerca c'è la curiosità. E anche l'amore, se si vuole, perché l'amore è quella particolare, estrema forma di curiosità che non solo vuol conoscere l'oggetto della curiosità, ma vuole anche lasciarlo in vita, non distruggerlo. E questo è un aspetto che, se volete, è un po' simile anche all'arte. E infatti c'è, secondo me, una coincidenza, una convergenza tra scienza ed arte. Nel senso, Schelling definiva l'arte come la risonanza di un soggetto con un oggetto. E anche nella scienza c'è la risonanza del ricercatore con la cosa ricercata. di lui ho visto il bel servizio che è uscito sul report una decina d'anni fa. Aveva un bellissimo viso, devo dire. E vorrei dire che gli esperimenti più clamorossi, cioè quelli che riguardavano la formazione e il dissolvimento delle nuvole o l'induzione o la non-induzione della pioggia, sono stati fatti anche da altri. Per esempio, un nome famoso, Wilhelm Reich, il famoso allievo di Freud, che poi ebbe una separazione dal maestro, il quale, mi sembra, negli anni 40, produsse un congegno, da lui chiamato Cloud Buster, che provocava la formazione o il dissolvimento delle nuvole e questo avveniva come coronamento di un filo di ricerca che era centrato sulla struttura e sulla dinamica della materia vivente, seguendo concetti che la scienza del suo tempo e anche quella successiva non erano in grado di analizzare, di comprendere. Quindi, come tutte le cose che a colpa non si comprendono, vengono battezzate sciocchezze. It is April 3rd, 1952, at Organon, Rangely Main. I, Wilhelm Reich, am sitting alone in the large room in the lower house. All people are gone. the recording apparatus is their only witness. I hope that someone will at some time in the future listen to this recording with great respect. respect for the courage that was necessary to sustain the research work in Organ Energy and Life Energy all through these years. I would like only to mention the fact that there's nobody around, there's not a single soul either here at Organon or down in New York who would understand what I'm doing and be with me in what I'm doing. They're all very good people. but they all are against, I say, are against what I am doing. They see only the trouble. They cannot tolerate it and they fear it. I happen to discover the life energy. I happen to induce the Oranur experiment. I know what it means for the future development of medicine, biology, philosophy and natural science. I'm fully aware of it and in this awareness I am completely alone. this is all. Reich è stato un grande pioniere e lui si rese conto che così come l'acqua del nostro corpo è tenuta in fase da un certo meccanismo, questo meccanismo in misura meno stringente opera anche nelle nuvole e lui può influire su quel meccanismo nelle nuvole nello stesso modo con cui influisce sull'organismo vivente. Questa è l'idea. Tra parentesi lui usava una specie di lunga canna di cui un estremo pescava in acqua tra virgolette vivente cioè in acqua che aveva subito dei procedimenti e che non sto a descrivere che la rendevano più simile all'acqua del nostro corpo che all'acqua del rubinetto e con l'altro estremo irraggiava verso le nuvole come se lui pescasse un campo di natura non meglio precisata da dentro l'acqua vivente lo proiettasse verso le nuvole e credo che Ighina facesse qualcosa di simile ma neanche Reich lo sapeva bene un'intuizione che però funzionava ma per Reich le cose non andarono bene accusato e diffamato venne condannato al carcere da un tribunale statunitense che stranamente ordinò la distruzione dei suoi libri e delle sue apparecchiature alla sua morte avvenuta in carcere nel 1957 chiese che una parte dei suoi carteggi venisse resa pubblica soltanto 50 anni dopo nel 2007 alla lettura del suo testamento davanti ad una platea di scienziati e ricercatori sono state incredibilmente omesse le parti che parlavano della modificazione del clima James De Meo scienziato statunitense da oltre 30 anni continua gli studi di Reich sull'energia organica e dirige un laboratorio di ricerca ad Ashland in Oregon il dottor Reich fu molto preciso nel dire che i cloud buster gli acchiappanuvole funzionavano e le implicazioni che ne seguirono furono che anche la sua teoria più ampia sull'energia organica l'energia che ricarica lo spazio più o meno il corrispettivo dell'etere del XIX secolo era altrettanto valida l'energia dell'orgone quella che voi chiamate l'energia organica se volete è la forza vitale l'energia vitale ma non è una sorta di ipotesi una sorta di idea teoretica è una reale energia tangibile la possiamo misurare esiste nell'atmosfera in forma libera e ricarica anche noi ricarica il terreno ricarica gli alberi sappiamo che questa energia esiste e abbiamo degli esperimenti concreti che lo provano e il cloud buster la chiappanuvole ne è lo sviluppo a partire dall'accumulatore organico sino all'investigazione dell'energia organica nell'atmosfera e alla fine alla scoperta dello stesso cloud buster il più importante esperimento che ho realizzato è stato in eritrea l'eritrea si trova proprio accanto al deserto del Sahara e noi abbiamo lavorato per cinque anni aumentando incredibilmente le precipitazioni aumentando incredibilmente la produttività del terreno l'intera regione della valle del Nilo fu investita dalla pioggia regolarmente ogni anno per cinque anni consecutivi abbiamo lavorato duramente per cinque anni in quella zona ogni estate per diversi mesi e quindi pensavamo che da questo qualcosa sarebbe seguito ma vedete in occidente gli scienziati accademici loro sanno tutto non gli puoi insegnare niente anche io sono uno scienziato classico conosco l'università ci ho insegnato conosco questa gente molto di loro sono brillanti molto intelligenti ma sapete come direbbe Shakespeare più intelligenti di quello che sono realmente cioè loro sono consapevoli di quello che conoscono ma non conoscono quello che non sanno un vero scienziato è consapevole di questo in altre parole sa che esistono dei limiti alla conoscenza e sa che c'è bisogno di conoscere di più di sapere quello che ancora non si sa e questo è molto raro faccio girare l'eleca e faccio allontanare le ruvole funziona o non funziona ecco adesso guardiamo quel punto là in alzo questo dovrebbe andare lì sono passati dieci anni undici anni quando sono andato da Eghina mi sono trovato di fronte a un novantenne che si faceva fatica a capire quello che diceva tra l'altro insomma anche abbastanza complicato perché io non sono un giornalista specializzato insomma in invenzioni o inventori sono andato a capire questo personaggio che tipo di invenzioni faceva che potevano servire che invece non venivano presi in considerazione dalla scienza ufficiale per i motivi che tutti conosciamo doveva essere credibile insomma per fare un servizio su di lui insomma dovevamo vedere qualcosa cioè gli esperimenti si raccontano però si devono vedere insomma in tv è così per cui ho detto se riusciamo a mettere in modo questa elica questa macchina e succede qualcosa allora le tue tesi acquistano sicuramente credibilità vede prima era buio là adesso è di tanto chiaro allora quello succede che piano piano le nuvole sta lontano e quindi dovrebbe avere il cuore sereno ma siccome ci sono molte nuvole ci vuole un po' più di tempo senta come può succedere una roba del genere ci puoi spiegare in termini di tecnici scientifici? sì dunque cosa sono le nuvole? le nuvole sono semplicemente dell'evaporazione di materiale che esistono sul pianeta e fa evaporare col sole e le fa evaporare e salgono un mano che salgono si carica l'energia solare e a un certo momento si fermano perché l'energia solare pesa allora valgono così nel cielo però io le mando dell'energia positiva tramite l'apparecettura qua dentro l'energia positiva positiva col positivo con la panca si allontanano se invece si mette negativa si abbassinano vede come si apre però è un po' difficile da muovere la massa così e poi guardo come si muove tra poco correndo vorrei andare via lui mi ha tentato di fare poi quello che effettivamente è successo e gli è riuscito era qui la cosa eccezionale insomma era era vero cioè era vero non avrei mai mandato in onda una cosa non vera infatti insomma ero proprio preoccupato a parte che insomma non l'avrei mai fatto non sta proprio nella diantologia ma neanche nella mia testa normalmente cioè di fare una cosa che non è vera e mandarlo in onda no? per cui il mio problema era proprio dare credibilità a questa cosa che era successa davanti ai miei occhi cioè non poteva essere un caso perché si è spaccato a metà il cielo cioè era tutto coperto poi si è spaccato proprio a metà proprio sopra l'elica cioè io gli ho creduto e gli ho creduto perché è successo e non si può dire che non è vero però che è bello mi fanno fuori cioè se mi crede non mi fanno fuori quando comincio a dire è povero il mistero che avvolge Pierluigi Ghina e le sue teorie sembra destinato a durare ancora a lungo nella sua ultima intervista Pierluigi Ghina dichiarò il 2000 è vicino io ho poco tempo ma sono avanti 30 anni gli scienziati invece sono molto indietro se mi dessero ascolto se solo un poco mi ascoltassero risolverebbero tutti i problemi del mondo ho 91 anni e da tanto tempo studio il magnetismo e molti fenomeni della fisica che ancora non sono stati capiti il secolo che sta per iniziare potrebbe cambiare la scienza non so se siete pronti per ascoltare questa cosa ma è bellissima il sole è il centro della vita dentro il sole al centro abbiamo scoperto un cuore un cuore pulsante che batte agli stessi ritmi del corpo umano un cuore magnetico un cuore magnetico siete liberi di credere o no a quello che scrivo se ci credete avrete capito i segreti del mondo se non ci credete per me è lo stesso lui non è mai stato matto anzi ma anche a me hanno detto che sono matto ma è normale tutto questo se io non ti spiego come stanno le cose tu non fai altro che dire che io sono matto a raccontarti certe cose grazie grazie